Ciao a tutti, bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italiano La modella, considerando Jessica una meritevole vincitrice del gioco, vorrebbe che iniziasse a contare di più sulle sue forze Dopo la puntata, Delia si avvicina a Jessica per sapere come prosegue il suo rapporto altalenante con Baru, sperando che la principessa possa darle modo di valutare anche la sua opinione al riguardo Magari sono stato un po' dura con te ma tu hai un cuore enorme e mi dispiace che venga presa in giro così la modella si scusa se, in passato, può essere risultata agli occhi di Jessica rigida e ferma sulle sue convinzioni che, molto spesso, andavano in contrasto con ciò che la principessa sperava di ottenere dal VIP Jessica ascolta attenta le parole della compagna che, con riservatezza, vorrebbe preservarla da una probabile delusione e le risponde convinta, grazie Goditi questa esperienza ma non aspettare niente perché tu vali di più Delia, rivedendosi negli atteggiamenti della principessa, le consiglia vivamente di attuare un altro tipo di tattica con Baru, magari facendosi percepire più distaccata e più indipendente potrebbe far suscitare nel concorrente un piacevole e curioso interesse verso di lei E deve essere lui a venire da te, io ti vedo persa come lo ero io Tu non hai bisogno di un rapporto amoroso qui dentro convinta che Jessica possa arrivare in finale contando solamente sulle sue forze, la modella sprona la VIP a continuare il suo percorso da sola, dimostrando anche a sé stessa del valore che in realtà fa parte di lei fatti amare per quella che sei Jessica ringrazia Delia per il confortante supporto e, felice della considerazione della modella, le dimostra la sua gratitudine con un caloroso abbraccio Grazie per aver guardato l'intero video.Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo ai prossimi video addio